Ha aperto a Roma la prima Japanese Room, tradotto letteralmente in stanza giapponese. Si tratta da come si legge nel web, da come ho visto, da come ho sentito di un bar giapponese. I bar giapponesi sono bar che ovviamente si trovano nel paese del Sol Levante, in genere si trovano al secondo e terzo piano e in qualche modo vanno a disporre di, troviamo anche ovviamente, bevande, drink, liquidi e chi più ne ha più ne metta nel mondo, chiamiamolo proprio dei drink. Quindi grazie per l'ascorto, dunque, una novità per quanto riguarda la città di Roma, che si ritrova, ripeto, con il primo, come era prima, Japanese Room, che tradotto letteralmente significa stanza giapponese, camera giapponese. Si tratterebbe, se non vale errato, ripeto nuovamente, di un bar, un bar come ci sono quelli in Giappone, il paese del Sol Levante.